Come iniziare a creare un canale YouTube di successo nel 2023? YouTube è il secondo motore di ricerca più importante al mondo e il primo per quanto riguarda i video. Se ancora non sei su YouTube, già un canale YouTube, vuoi capire come crescere, questo è il video giusto per te. Io sono Giusy Di Girolamo, trainer di autonomia finanziaria e in questo canale parlo di educazione finanziaria e business. In questo video in particolare ti parlerò degli 11 step che devi assolutamente fare per creare un canale YouTube di successo. Se guarderai il video fino alla fine capirai tutti gli step da fare sia per una strategia di business che ti faccia realmente guadagnare sia per avere un canale YouTube che funzioni davvero. Premessa importante. Prima cosa non guardare questo video se vuoi utilizzare YouTube solamente per hobby perché questo è un video che va in profondità e cercherà di darti quello che davvero ti serve. Seconda cosa super importante questo video è per chi non sa come fare o comunque ha iniziato e non sta avendo risultati sperati. Questo perché ho passato anch'io un periodo del genere. Il mio primo anno su YouTube non è stato facile non mi guardava nessuno forse nemmeno il mio cane e quindi so quello che si prova e sbagliando ho capito effettivamente quello che funziona. Infatti poi ho raggiunto con alcuni video più di 100.000 visualizzazioni 200.000 visualizzazioni e ho raggiunto nel canale YouTube un milione di visualizzazioni. Quindi spero che quello che ti dirò ti faciliterà molto il percorso. Terza cosa super importante non ha senso guardare solo uno step e non guardarli tutti perché sono tutti fondamentali e c'è una conseguenzialità se fai uno e non fai l'altro molto probabilmente non avrai risultati sperati. Grazie a questo video quindi potrai raggiungere i tuoi primi migli iscritti e avere davvero un business. La prima cosa più importante è la visione. Che cos'è la visione? Il capire perché lo fai. Perché se non hai un motivo di fondo molto forte allora è difficile che riuscirai a farcela perché è importante capire effettivamente perché vogliamo questo. Per esempio nel mio caso volevo creare un qualcosa di mio una mia attività e sapevo che YouTube è uno strumento che mi poteva aiutare. Infatti attenzione non lo dicono in molti YouTube come tutti gli altri social è solamente uno strumento che hai per raggiungere il tuo obiettivo. Di base è importante avere una strategia che capirai seguendo questo video fino alla fine. Quindi adesso io ti chiedo perché lo fai? Fammelo sapere in un commento. Vuoi per esempio lasciare il tuo lavoro da dipendente? Vuoi arrotondare lo stipendio? Che cos'è che ti spinge a creare un canale YouTube o far crescere un tuo canale YouTube? Qual è la tua missione? Man mano vedrai che andremo sempre più nello specifico in questo video e che cos'è la missione. Invece di darti una definizione preferisco farti capire nello specifico che cos'è la missione. E' quello che ti spinge ad andare avanti. E' importante se per esempio vuoi aiutare le persone a dimagrire con delle creme e crei un canale YouTube correlato per parlare per esempio di skin care e poi promuovere le tue creme. Avere una definizione chiara. Quindi per esempio aiuto le donne sopra i 40 anni a dimagrire con un programma mirato per la pelle. Ovviamente non sono esperta di dimagrimento però quello che è fondamentale è definire le persone a cui ti rivolgi. Definire anche come aiuterai queste persone e che cosa tu hai di diverso dagli altri perché dovrebbero seguire proprio te. Quindi il tuo elemento differenziante. Prova a definire la tua frase fammela sapere in un commento quello che vorresti fare o quello che farai chi vorresti aiutare. Dopo che è chiaro a chi ti rivolgi ok è importante capire come guadagnerai perché come ti dicevo YouTube è solamente uno strumento. I social sono solamente uno strumento. Devi capire effettivamente come guadagnerai. Dalla vendita di un prodotto, dalla vendita quindi per esempio delle creme oppure dei profumi oppure non so cos'altro vuoi creare e che cosa realizzi tu. Oppure vuoi vendere un servizio per esempio delle consulenze o vuoi guadagnare dalla vendita dei corsi online, dalla pubblicità su YouTube. Ecco devi aver chiaro in mente qual è il tuo obiettivo finale. Per esempio il tuo obiettivo finale potrebbe essere guadagnare dalla vendita di corsi online però all'inizio potresti, visto che hai magari pochi clienti, guadagnare con le consulenze oppure ancora guadagnare sempre dalle consulenze perché è quello che preferisci. Devi capire che cosa ti piace fare e se iniziare con quello è lo step giusto oppure no. Per esempio Clio Makeup ha creato un canale YouTube dove parlava di make up. All'inizio guadagnava con gli sponsor e le aziende che sponsorizzavano nei suoi canali i loro prodotti successivamente ha creato una propria linea di prodotti e questo è bene averlo chiaro in mente subito o comunque puoi rivederlo nel tempo però se hai un'idea chiara di qual è il tuo obiettivo ok come vuoi veramente guadagnare ti sarà più facile farlo e capirai anche per esempio quanti prodotti devi riuscire a vendere a che prezzo per raggiungere il tuo obiettivo. Devi fare una sorta di pianificazione finanziaria della tua attività, capire se ti servono degli investimenti o meno e qual è il tuo ideale di business. Se non sei un super esperto in pianificazione finanziaria e strategia puoi prenotare una consulenza con me, trovi il link in descrizione al video in modo da eliminare tutti i dubbi e andare e fare quegli step più importanti per te e farmi le domande specifiche ed eliminare subito i tuoi dubbi. Dopo che è chiaro tutto questo allora potrai chiederti quanti video a settimana creare perché youtube favorisce quei canali che sono costanti nel tempo quindi devi capire effettivamente quanti video a settimana riuscirai a creare. Un video a settimana, due video a settimana, un video al mese. L'importante è essere costanti. Se riesci puoi pubblicare sempre nello stesso giorno, alla stessa ora e ancora meglio perché le persone che ti seguono sanno quando aspettarsi un video da te. Per esempio nel mio caso all'inizio non sono stata super costante. Quando ho incominciato a creare sempre due video a settimana ma sarebbe stato lo stesso se ne avessi creato tre uno ho avuto un aumento esponenziale. Quindi è un fattore questo importante da prendere in considerazione quello della costanza e ovviamente io non posso sapere tu quanti video riesci a creare però capire il tempo che ti serve e capire quanti ne puoi realizzare a settimana o al mese è fondamentale. Altra cosa super importante non collegata strettamente a youtube però importante per poi guadagnare è quella di crearsi una propria mailing list e se in futuro pensi magari di creare dei corsi online ti consiglio una piattaforma Kajabi. Trovi il link in descrizione al video e la possibilità di avere una prova gratuita di 30 giorni perché con questa piattaforma puoi fare sia il sito web sia gestire le tue email sia la creazione di corsi di coaching e quindi è uno strumento che ti facilita molto sia a livello di tempo sia a livello di soldi perché ha un costo ok però è un costo molto inferiore rispetto ad avere tanti strumenti diversi sito web e mail la piattaforma Kajabi collegare tutto questo insieme quindi ti fa risparmiare sia in termini di tempo e costi infatti io stessa te la sto consigliando perché io la utilizzo per tutto fondamentalmente ho provato tantissime piattaforme prima o poi farò un video su quello e grazie a questa ho risparmiato molto tempo per dedicarmi alle mie attività principali e alla fine ho risparmiato veramente tanto perché avere tantissime piattaforme mi faceva alla fine anche se all'inizio sembrava di no mi faceva spendere molti più soldi prima di iniziare a creare video un'altra cosa importante potrebbe essere guardare il mercato guardare che cosa fanno gli altri puoi anche guardare i canali inglesi per verificare se ci sono dei titoli degli argomenti che vengono ricercati più spesso e capire se è un argomento che potresti fare tu nei tuoi video e poi anche per capire come differenziarti dal dagli altri perché è meglio essere la miglior copia di se stesso che la peggior copia di un altro in questo modo potrei avere più chiaro in mente quali sono i video e gli argomenti più ricercati dalla tua nicchia dalle persone che sono interessate a quello che fai per esempio crei dei materiali con il legno capire effettivamente le persone che possono essere interessate a questo se per esempio crei degli oggetti di legno per i bimbi capire a chi riferirsi in questo caso per esempio i genitori che cosa cercano i genitori di questi bimbi in modo tale da creare dei video che attraggano quelle persone altra cosa super fondamentale è la programmazione come ti dicevo prima youtube tra un canale che non pubblica mai o pubblica in modo discontinuo ed un canale che pubblica periodicamente secondo me comunque favorisce di più i canali che pubblicano periodicamente e poi chi pubblica periodicamente ha il vantaggio che essendo costante in qualche modo continua a migliorarsi e creerà video sempre migliori quindi che cosa puoi fare per programmare il tuo tempo per esempio tanto dovresti capire all'interno della giornata quante ore disponibili hai per fare questo perché per esempio al momento già stai facendo un altro lavoro e quindi capire effettivamente quanto hai e quante ore hai disposizione è importante e puoi dedicare ogni giorno a fare attività specifica per esempio un giorno da dedicare alla scelta degli argomenti e dei titoli per il prossimo mese per il tuo canale un giorno o due o tre ovviamente il tempo che ti serve per scrivere i testi oppure solamente un elenco puntato in modo da avere chiaro in mente che cosa andrai a dire nel video poi un giorno potresti dedicarti alle copertine alla descrizione del video poi alcuni giorni alla registrazione e al montaggio oppure potresti decidere di avere un collaboratore per il montaggio di video ecco questo forse dovresti farlo nella parte qui ti parlavo dei guadagni degli investimenti capire effettivamente quanti soldi ti servono e capire i pro e contro di avere un collaboratore perché ok risparmi tempo però ovviamente ci vuole del budget però sapere effettivamente quanto ti costa qualcuno che ti supporti può essere utile per capire se è un'attività che è meglio delegare o no nel tuo caso e adesso arriviamo al clou della questione come aumentare i tuoi scritti velocemente e arrivare ai primi mili iscritti ci sono delle cose importantissimo quello di essere costanti te l'ho già detto poi quello di creare i primi video su un argomento molto simile per esempio adesso ti ho creato un video su youtube quindi vuoi parlare di youtube creare i primi quattro video su argomenti correlati di youtube come ho creato il mio canale youtube come crescere su youtube come creare le copertine su youtube quindi tutti argomenti correlati allo stesso argomento quindi che hanno una mediesima parola chiave e poi importante se c'è un argomento una news del momento ok andare a creare un video su quello per esempio io ho creato un video sui btp buoni del tesoro una settimana prima due settimane prima che ci fosse una nuova emissione e in questo modo siccome era un argomento news in quel momento quei video hanno raggiunto più visualizzazioni in breve tempo quindi immagina per il tuo caso specifico se ci possono essere delle news in un determinato periodo fammi sapere in un commento se vuoi altri video per far crescere il proprio canale youtube fammi sapere se l'hai già creato su che cosa lo creeresti questo video mi ha richiesto tanto lavoro ti sarei grata se mi lasci un like un commento un ciao un grazie un segno di vita a te non costa niente ma a me aiuta a far crescere il canale iscriviti al canale attiva la campanella per non perderti i prossimi video di business e finanza personale io ti mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao